Io mi chiamo Pasquale Capiero e sono brigadiero del carcero in me Io mi chiamo Capiero Pasquale e sto a un poggio reale dal 53 E al centesimo a catenaccio, alla sera mi sento uno straccio Fortuna che al prezzo speciale c'è un uomo geniale che parla con me Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi, correduti alla che Tutte loro con staffa d'enzia che smuta minaccia e sta figlia con me Ma alla fine mi assento papà, il bottone mi leggo giurtà Il consiglio con Don Raffaele mi spiega che pensa e beve il mio caffè Ah, che bello caffè, pure in carcero sanno a fuori Qua ricetta che ci ci vediamo, compagni di cielo, ci ha dato mamma Prima pagina, venti notizie, vent'un'ingiustizia e lo Stato che fa Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele Un galand'uomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci t'hanno consigli Mentre l'assessore che Dio lo perdò, in trenta i rullotti ci alleva i visori Poi vi basta una mossa o una voce, ma sto Cristo ci leva la brucia Con rispetto se facco le tre, volite spremuto volito caffè Ah, che bello caffè, pure in carcero sanno a fuori Qua ricetta che ci ci vediamo, compagni di cielo, ci ha dato mamma Ah, che bello caffè, pure in carcero sanno a fuori Qua ricetta che ci 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 devi, da un po' Ani di cielo, preci, la mamma Ani di cielo, preci, la mamma